Per condizionare l'esito dei concorsi per i Vigili del Fuoco e altre forze dell'ordine, i due funzionali dei Vigili del Fuoco, ora arrestati, Antonio De Matteo e Giuseppe Sparaneo, si sarebbero avvalsi stabilmente dei poteri dell'influenza del vice prefetto Balletta, a capo dell'ufficio concorso dei Vigili del Fuoco, che, come spiega l'accusa in mistù del suo ruolo attuale, poteva nominare o sostituire i commissari d'esame nei concorsi dei Vigili del Fuoco. E sono proprio i quiz uno dei cardini delle indagini effettuati dai militari del gruppo della Guardia di Finanza di Benevento, con a capo il capitano Carlo Iannuzzo e coordinate dal sostituto procuratore Francesco Sanzobrino. Procedevano ad avere propria compravendita di supporti informatici oggetto di scambio illecito e che avrebbero costituito solo la prima parte di un segmento diviso in più fasi concorsuali, tutte che sarebbero state interessate da modalità e accordi illeciti. Invece, per i concorsi già banditi, gli indagati agivano in maniera differente. Il capo dell'ufficio concorsi riceveva dai funzionari beneventani le generalità, spesso su un bigliettino o anche telefonicamente, con schede, utenze mobili dedicate, e quello gli bastava. I soggetti beneventani gli indicavano la data di convocazione del candidato, la data di inizio e quindi il meccanismo sembrava impenetrabile perché non c'erano altre conversazioni che li riguardavano.